un nuovissimo passaggio segreto utilizzando il blocco bersaglio, i saluti a fine video ah questi sono i soli blocchi che ci servono per costruire il passaggio segreto allora andiamo a costruire un punto in cui creeremo il nostro passaggio diciamo questa è la porta, ora metto un bersaglio, questa sarà la porta che si aprirà ok, costruiamo esattamente questa piccola costruzione poi andiamo alle spalle, mettiamo una scala in questo modo e una scala in quest'altro modo a formare una L ora preoccupiamoci di costruire la parte di meccanica e di redstone nella zona posteriore nella zona posteriore prendiamo il nostro bersaglio lo mettiamo esattamente a fianco a questo blocco della scala poi andiamo indietro con vetro e un nuovo blocco pieno, per esempio quello di mattoni all'altezza del blocco di vetro andiamo a mettere un pistone, non in questo modo un pistone appiccicoso e uno sotto, ok, avendone due esattamente così questi andranno a tirare e a spingere i nostri blocchi ora dobbiamo andare a portare la pietra rossa esattamente così, questo è stato attivato mettiamo in basso e abbiamo attivato anche il secondo ora preoccupiamoci di costruire un'altra zona di redstone in questa zona inquadrata molto più semplicemente di prima prendiamo un blocco di mattoni di pietra questo lo possiamo distruggere, qua sotto andremo a mettere il nostro pulsante che ci permetterà di uscire a questo punto ci appoggiamo su questo blocco di pistone che sta attivato ne mettiamo uno di qua, uno sopra e semplicemente andiamo a portare la nostra redstone verso il pulsante, il bersaglio quando noi clicchiamo, come vedi, ci permette di uscire ok, quindi io esco, ma come entro? come entro con arco e frecce arco togliamo questi oggetti che non ci servono una bella freccia freccia e se noi cominciassimo a lanciare delle frecce ok, vedete qui che si crea il rettangolino nero ok, quando invece scompare come in questo caso siamo pronti per lanciare colpire il bersaglio ok ops, via magari mi riempio una piccola zona qua altrimenti ci sto 5 giorni bersaglio colpito preso sono entrato quando voglio uscire clicco il pulsante e esco prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe minecraft bedrock completamente gratuite su venezia e su pitagora e trovi anche il link per agganciarti al nostro server discord e dal nostro server minecraft che è sia bedrock che java attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane poi se non già fatto iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici al server discord è qui sul canale youtube detto questo commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto e infine dai un'occhia da queste playlist che ti suggerisco mentre saluto dragon tutorial e sadfrax dal canale youtube che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao ciao